Ragazzi, ciao, sono nelle scale di casa mia e sto andando da casa di Marco e posso passare tranquillamente dai garpage. E nulla, adesso stiamo portando il regalo a Marco. E nulla, e nulla raga, sto portando il regalo a Marco per i 50.000, guardate. Cuffie Razer Kraken Chroma 7.1. Purtroppo non glielo incartate perché è più ignorante dare direttamente così o sbaglio. Ditemelo sotto nei commenti, a mille like faccio un regalo a tutti voi, un panino. Sì, lo faccio. Io sono in camera sua e non gli ho ancora dato niente, l'hai visto? Hai visto cosa ti sto portando? Non lo so, stai tenendo qualcosa dietro la schiena da un'ora. Raga, pronti, partenza, via. Auguri per i 50k. Ah, così, un regalo per i 50k, inaspettato. Inaspettato. Perché saprei che ci puoi prendere le orecchie allora. Buonasera, come si apre? Guarda, è facilissimo, guarda. Oddio, ah, c'è l'apertura dal lato. Eh sì, eh. Ma questo qua è la droga? Guarda. E a parte che io sono la persona più scarsa del mondo d'apertura delle scatole. Guarda. Ok, no, no, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. La magia dello scato. Tanto stavo giocando NBA, non vorrei dire. Non sta, regalo, 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 regalo a tutti i miei fan iscritti al secondo canale. Ah, beh, ci sta. No, perché, ma sai quanti sono più o meno? Ah, c'è, non che... Che toff! Però devo leggere. Che toff! No, ma... No, no, non ci vedo, neanche con la chiave. Siamo? Oddio. Oh, oh mio Dio. Oh mio Dio. Sono belline. Sono bellissime, non sono belline. Come cazzo? Dai, Marci fa dei miei regali. Marci fa dei regali bellissimi. E non sarà l'ultimo per i... Ah. E la madonna. Mi può un po' uno spoiler questo, bro. Cos'è sto spoiler? Eh, sono bellissime. E gli altri, quelle di Tano, le Kraken 2.1. Sì, sono fie. Eh, sì. Oddio, calma. Con l'USB, quindi attacco all'hub. Ciao, bro. Ciao, bro. È la lab. Ok, rega, grazie mille, bro. Aspetta, facciamo un abbraccio per gli edit, così. Ok, raga, per gli edit, sì. Secondo me la penso, rega. Aspetta così. Andr, raga. Mai deboli. Mai deboli. Eh, però adesso voglio che te le provi. Ah, ok, allora, vediamo. Adesso dobbiamo cambiare clip perché deve prima mettersi il cappellino. È come io, io ci voglio. Eh, mettitele. Eh, ma? Attaccali perché si accende il led. Questo si accende. Come si accende? Sì. Ma sei serio? È crack, è croma. Si accende in tutti i colori, è RGB. Ma com'è? C'è che mi diventa multicolor in questa camera? Sì. Ma di cosa stai parlando, rega? Raga, 2000 like, Marco fa un video. Esco le cuffie. Esce le cuffie. Guarda, si stanno già per illuminare. Guarda. Boom. Guarda. Perché hai spento in BA? Oh mio Dio, che fighe. Guarda. Che figata sono. Guarda. Tutti i colori. Sì, che belle. Fanno enorme, eh. Cioè, guardati quanto sei gigante. Vediamo quanto sono. Guarda quanto sei gigante. Oh mio Dio. Vabbè, ora siamo fratelli, dato che ce l'ho anch'io. Sono bello. Sono bello. Come Pepo. No, Pepo no, è raggiunto. Un pochino di meno di Pepo. Esatto. Pepo, se stai guardando questo video, ciao. Comunque ragazzi, era un video reaction. Ho avuto una reaction avanzata con te. Però sono felicissimo, grazie Bomber. No, più caldo che è tardi. Ci sono i suoi di là. Esatto. E non vuole parlare. Esatto. E anche io sono un po' emozionato. Che è un buone. Comunque non sarà l'ultimo. Ciao a tutti. Ciao. Missione compiuta. Troppo inquietante in un garage a fischiare, vero? Ciao a tutti.